Perché è così importante che un socio faccia valere il proprio peso votando per la formazione del prossimo consiglio di amministrazione? E' importante per la vita democratica, per la trasparenza di tutti gli atti. La vita democratica di Galeno deve essere al massimo delle possibilità, la trasparenza anche. Perché l'arricchimento, nel senso che molte teste pensano meglio di poche teste, quindi avere partecipazione all'assemblea significa anche attraverso le eventuali critiche poter migliorare le prestazioni, perché siamo qui per ascoltare, perché vogliamo ascoltare, perché vogliamo capire meglio tutto il mondo. Grazie a tutti.